sicurissimo sono così welcome to the jungle amici miei bentornati su pimp come sono salvatore come sempre come state spero tutto bene ragazzi oggi torniamo con la magia di ritorno dove andremo a concludere il capitolo 7 la seconda parte perché l'altra volta era diventato un video troppo troppo lungo e quindi era impossibile finirlo un video un po più breve e quindi ragazzi ci andiamo a leggere la seconda parte del settimo capitolo ricapitolando ricapitolando trevor è a colloquio con il suo terapeuta e quindi deve iniziare la videochiamata eravamo rimasti a questo vi raccomando se non avete visto la prima parte del capitolo 7 vi invito a recuperarla vi raccomando lasciate sempre un like se vi è piaciuto il video iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti fa molto caldo quindi perdonatemi il sudore e few moments later allo scoccare dell'ora avvia i skype che digitò in automatico il numero una volta stabilito il collegamento la faccia del dottor boven apparve sullo schermo come sempre era la scrivania del suo studio un posto dove ero stato innumerevoli volte con l'incipiente calvizie e gli occhialini tondi della montatura di metallo che lo facevano somigliare più ad un professore di matematica che è un psichiatra dimostrava forse una quindicina di anni più di me come va doc ciao trevor tutto bene sì grazie e tu come stai? ho invitato un po' la voce del dottore quando lo chiedevo io erano solo convenevoli quando lo chiedeva lui faceva sul serio mi pare di stare bene risposi niente incubi niente insonnia dormo bene ho bevuto un paio di birre in 4 giorni diversi la settimana scorsa mi sono allenato 5 volte nessun episodio di rabbia o ansia o depressione nell'ultima settimana utilizzo sempre le tecniche della tcc o tdc tutte le volte che sento di averne bisogno benissimo a noi mi sembra tutto molto salutare fece una pausa boven mi faceva un sacco dobbiamo continuare a parlare chiese alla fine a te andrebbe di farlo? mi farà pagare la seduta? sì a proposito ho una nuova barzelletta dissi quanti psichiatri occorrono per cambiare una lampadina? non saprei soltanto uno una lampadina deve voler davvero cambiare rise come immaginavo che avrebbe fatto boven ride di tutte le mie battute poi torna silenzioso mi ha detto che forse le battute sono il mio modo di tenere le persone a distanza comunque iniziai e continuai aggiornandolo sulle novità della mia vita durante l'ultima settimana quando avevo cominciato la terapia mi interrogavo sulla reale utilità di questi racconti con il tempo ho imparato che servivano a boven per farsi un'idea migliore dello stress a quello sottoposto in un dato momento e questo è importante per gestire il dspt se il troppo stress non è compensato dalla giusta dose di esercizio e comportamenti sani rischi un'esplosione di rabbia come quella che avevo provato verso il tizio del supermercato oppure ripiombo nell'alcon ed esagero con gta perciò parlai gli raccontei di aver sentito la mancanza del nono e dei miei genitori più intensamente del solito rispetto all'ultima volta che ce l'avamo sentiti lui mi spiegò che le mie emozioni erano comprensibili che controllare le erni e sistemare il motore della barca avrebbero suscitato in chiunque un misto di nostalgia e senso di perdita gli accennai che qualcuno doveva essere entrato in casa e averci vissuto per qualche tempo quando mi chiese se la cosa mi facesse sentire violato o offeso gli sposi che ero più curioso che preoccupato dato che, e scusa la porta di servizio non c'erano stati altri danni né era stato rubato niente gli raccontai anche ciò che Claude aveva detto sul nonno e, come capitava spesso ultimamente discutemmo delle sue ultime parole e della mia confusione a tale proposito sei ancora turbato, osservò è vero, ammisi non capisco il dottor Bowen, come Natalie, ricordava tutto forse hai sentito male Bowen lo aveva già suggerito in precedenza e, come sempre, scarta l'idea sono sicuro di ciò che ho detto e ti ha anche detto che ti voleva bene o sbaglio? sì aveva avuto un ictus, vero? e gli avevano dato molte medicine che era in stato confusionale? sì e solo dopo quasi un giorno che eri con lui e riuscita a pronunciare qualche parola? sì di fronte al mio silenzio terminò con l'interrogativo che mi tormentava da mesi eppure è sempre la sensazione che volesse comunicarti qualcosa di fondamentale sapevo che il dottor Bowen mi osservava dallo schermo a noi senza parlare sei consapevole che potresti non scoprire mai di che cosa si trattava? era la persona più importante della mia vita doveva essere proprio un bravo uomo distorsi lo sguardo oltre la porta aperta il fiume era nero e antico nella mordida luce del sud avrei dovuto essere lì con lui, borbottai se avrei dovuto andare con lui se l'avessi fatto forse non gli sarebbe venuto l'ictus forse guidare lo aveva stancato troppo può darsi, disse Bowen oppure no non c'è modo di stabilirlo con certezza e anche se è normale sentirsi in colpa è importante ricordare che la colpa è soltanto un'emozione e, come tutte le emozioni alla fine passerà a meno che tu non voglia restarci aggrappato lo so, risposi mi lo aveva già ripetuto altre volte mi rendevo conto che aveva ragione ma a volte mi sembrava che le mie emozioni mi contrastassero comunque, Natalie ha detto che potrei trovare delle risposte nel suo pick-up riguardo al motivo per cui si trovava nel Sud Carolina, intendo quindi ha avviato le ricerche per rintracciarlo Natalie è il vice sceriffo qui in città, spiegai poi gli raccontai come ci eravamo conosciuti nella nostra conversazione al parco e in fine della cena direi che avete passato parecchio tempo insieme dall'ultima volta che ci siamo sentiti, osservò voleva vedere le erni ah, disse e siccome ormai ci sentiamo spesso capi esattamente che cosa stavo pensando sì, lo anticipai è attraente intelligente e sì, sono stato bene con lei però non sono sicuro di ciò che Natalie provi per me perciò non c'è molto altro da aggiungere d'accordo dico sul serio insistetti e poi il sospetto che si veda con qualcun altro non ne sono del tutto sicuro ma ho notato degli indizi capisco allora perché ho l'impressione che non mi creda ti credo, ribatté però lo trovo interessante che cosa c'è di interessante? Natalie è la prima donna di cui mi hai parlato da quando hai rotto con Sandra non è vero, obiettai le ho parlato anche della ragazza dello yoga era una donna con la quale ero uscito un paio di volte l'autunno precedente più o meno nel periodo in cui ero stato accettato per l'internato avevamo trasposto un paio di serate piacevoli ma al termine della seconda entrambe avevamo capito che tra noi non avrebbe funzionato lo guardai spostarsi gli occhiali sul naso ricordo disse infine con un sospiro e tu ti ricordi come l'hai chiamata la prima volta che me ne hai parlato? veramente no ammisi cercai di rammentare quale fosse il suo nome Lisa Elisa Elis qualcosa del genere l'hai chiamata la ragazza dello yoga disse non hai usato il suo nome sono sicuro di aver detto il suo nome protestai ti assicuro di no all'epoca avevo trovato la cosa molto interessante che cosa stai cercando di dirmi? che pensa mi stia prendendo una cotta per la poliziotta? fece un mezzo sorriso mentre tutti e due ci rendevamo conto che all'improvviso avevo evitato di chiamarlo per nome non ne ho idea proseguì e non aspetta a me dire se sia così o no non so nemmeno se la rivedrò l'orologio sul computer segnava che era passata quasi un'ora e che la nostra seduta volgeva al termine incredibile a proposito di vedersi disse è probabile che possiamo incontrarci di persona la prossima settimana a meno che tu non preferisca continuare online secondo lei dovrei venire a Pensacola? no figurati non mi sono spiegato ci sarà una conferenza sul DSPT a Camp Lesion a Jacksonville uno dei relatori ha dovuto rinunciare e hanno chiesto a me di sostituirlo è martedì prossimo ma arriverò lunedì in aereo se vuoi potremmo vederci a Jacksonville oppure potrei venirti a trovare a New Bern se per te è più semplice sarebbe fantastico a che ora chiesi? alla solita replicò lui posso prendere un volo al mattino e poi noleggiare una macchina è sicuro che non sia troppo fuori mano per lei? sicurissimo sono curioso di vedere la casa di tuo nonno me ne hai parlato così tanto sorrisi convinto di non essere comunque riuscito a rendere giustizia a questo posto allora alla prossima settimana doc le servono indicazioni? sono sicuro che la troverò stammi bene arrivederci due ore più tardi mi squillo il cellulare non conoscevo il numero ma il prefisso era quello del South Carolina il direttore dell'ospedale? tra i corbenzo gli sposi salve sono Thomas King del Baptist Easley Hospital ho ricevuto il suo messaggio ma non sapevo bene di quale informazione avesse bisogno ho fatto anche un po' di vocetta molto figa al contrario della segretaria non aveva un accento così marcato difficile da comprendere grazie per avermi richiamato risposi prima di illustrare la situazione quando terminai mi chiese di restare in linea ci voglio un po' di tempo ascoltai come minimo 5 minuti di musica di sottofondo prima di tornare in linea con lui scusi per l'attesa ma ho dovuto capire a che chiedere per trovare informazione che le serviva di solito usiamo due servizi di ambulanza spiegò mal in gola mi dite i nomi mentre li scrivevo li proseguì purtroppo non abbiamo i particolari relativi a suo nonno suppongo che la cosa migliore sia chiamare direttamente loro forse avranno le informazioni che le occorrono sono certo che per legge debbano tenere un registro era proprio come aveva detto Natalie da ringrazio dell'aiuto mi è stato davvero utile si figuri con indoglianze per suo nonno grazie dissi gli agganciai intenzionato a chiamare i servizi di ambulanza il primo mattino dopo avrei dovuto pensarci quando il nonno era in ospedale dopo sei mesi chissà quanto tempo avrebbero impiegato a trovare le risposte che mi servivano infatti i miei pensieri ritornarono a Natalie da quando avevo sentito Boven continuavano a raffionarmi la memoria e immagini di lei la sua espressione meravigliata guardando l'ape camminarle sul dito l'ondeggiare sensuale del suo vestito che metteva in risalto le lunghe gambe e la linea slanciata del corpo quando era sceso dall'auto a Balfort ripensai al discorso profondo che avevamo fatto e alle chiacchiere leggere e mi chiesi il motivo del lampo di tristezza che avevo notato in lei al termine della cena pensai all'energia che si era creata tra di noi e compresi perché l'avesse chiamata per nome quando ne avevo parlato con Boven per quanto avessi cercato di ridimensionare la cosa con lui ero convinto di volerla rivedere al più presto dopo cena mi decise a leggere qualcosa nella veranda posteriore sapendo però che Natalie doveva aver già finito il turno mi sorprese a prendere il cellulare feci per chiamarla ma cambiare idea e riscrisse un breve messaggio stavo pensando a te spero che la giornata sia andata bene sei libera per cena sabato sapevo che avrei dovuto mettere via il telefono invece aspettare di vedere se lei tenesse il suo a portata di mano e mi rispondesse subito in effetti vedi la spunta che indicava che aveva letto il messaggio e immaginai che mi avrebbe scritto però non lo fece continuai a controllare per il resto della serata un comportamento infantile impulsivo forse immaturo a volte riesco ad essere tutte queste cose insieme come dice Boven siamo tutti work in progress alla fine quando stavo per andare a dormire senti il suono familiare di un messaggio in arrivo grazie giornata tranquilla niente di speciale guardai lo schermo di sicuro di Natalie non mostrava un'innegabile passione e attrazione nei miei riguardi tanto più che non aveva accennato minimamente al mio invito posai il telefono sul comodino sentendomi confuso ferito poi appoggiai il dito sull'interruttore della luce cercai di scacciare quelle emozioni sapendo che era troppo presto per provare certe cose e poi se non avesse voluto più parlare con me non mi avrebbe risposto giusto? spensi la luce e sistemi le coperte quando il cellulare suonò di nuovo l'ho presi ci penserò non era un sì ma neppure un no continuai a fissare lo schermo finché convive un altro messaggio uno smile sorrisi intrecciare le mani dietro la nuca e guardai il soffitto sempre più affascinato da lei uè grande dai è stato un capitolo sempre transitorio nessun colpo di scena con Natalie però dai ci sta mentre arriverebbe subito al punto sarebbe finito una pagina il libro è stato un libro è stato un capitolo molto interessante dove si è spiegato un po' il rapporto che lui ha con Bowen e si può capire anche un po' il rapporto che ha con gli amici in generale io vi ricordo sempre di scrivermi sotto nei commenti se vi è piaciuto questo capitolo che cosa ne pensate se state leggendo il libro se magari l'avete già letto quindi volete dirmi qualcosa ovviamente non spoiler sperando non spoiler vi invito a scrivermi sotto nei commenti qualsiasi domanda qualsiasi richiesta e anche qualsiasi consiglio perché abbiamo detto che porteremo il prossimo libro ma non sappiamo ancora quale quindi consigliatemi anche voi che se volete le sapete più di me spero che il video vi sia piaciuto ho cercato di farlo il più velocemente possibile dovremmo essere una quindicina di minuti di registrazione quindi spero che non vi siate addormentati se il video vi è piaciuto vi raccomando lasciate un pollicione in seguito di supporto ragazzi è veramente fondamentale per me vi ricordo anche di seguirci anche sugli altri social instagram tiktok facebook twitch cioè veramente un'ampia scelta grazie per aver visto il video un bacio ci vediamo presto ciao 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 Grazie a tutti.